Rec. Eccoci qua. Ciao Marco. Ciao Vale. Ciao, tutto a posto, come stai? Tutto bene, dai, tutto bene. Tutto bene? Sei da solo in casa? C'è qualcuno che ti fa compagnia? Io abito con i miei coinquilini. Ok, quindi vi state facendo un po' di compagnia in questi giorni. Sì, esatto, ci facciamo un po' compagnia, giochiamo a carte, suoniamo. È una casa di musicisti, quindi ognuno di noi ha il suo studio in camera e così, insomma, un po' suoniamo, un po' giochiamo alla play, un po' facciamo grandi cene, ecco. Mangiate tantissimo. Ma quindi suonate e perciò avete partecipato anche a tutti i Flash Mob delle 6 o...? Dal balcone, sì, abbiamo... all'inizio soprattutto facevamo molto... abbiamo messo fuori dal balcone l'amplificatore, facevamo il DJ set dal balcone. Poi in realtà, passati i primi due o tre giorni, ci siamo rotti. Mi è passata la voglia. Sì, esatto. E invece in questi giorni qua, in cui siamo in una situazione un po' strana, ci sono cose che senti di aver perso della tua vita normale o dici sono contento di non dover fare più questa cosa? Allora, beh, mancano tanto tutte le varie relazioni sociali che, insomma, si intrattengono sempre. Poi io vivo nel mondo degli eventi e della musica e dell'educazione, quindi sono... tutti i miei mondi lavorativi per adesso sono bloccati. Quindi ciò che mi manca di più in realtà, sì, è un po' tutto. Mi manca il lavoro, le relazioni sociali e... Il contatto con gli altri. Uscire, andare in giro, andare in montagna o anche soltanto girovagare per Milano, cosa che spesso faccio in bici. Non so, mi muovo sempre moltissimo e ora stare fermi così è un po' pesante. Invece in casa non hai riscoperto qualcosa che magari non so, dici, non facevo da tantissimo tempo, ho riscoperto questa cosa, non lo so, cucinare. E mi piacerebbe anche continuare dopo che tutto questo periodo sia finito. No. Sì, in casa stiamo facendo più spesso delle cene tutte insieme. Ci si dedica un po' più alla cucina, quello ci sta. Ma devo dire che, sì, diciamo per dare un po' di ritmo alle giornate, ultimamente faccio della ginnastica la mattina, molto leggera e questo in effetti potrei continuare a farlo. Poi sto sentendo tante persone che non sento mai e questo anche è una cosa che sicuramente dovrò continuare a fare anche dopo. No, no, per il resto niente. E invece, vabbè, quindi diciamo che in un modo o nell'altro sei riuscito a creare la tua routine. Dopo tre settimane ci siamo tutti un po' stabilizzati. Sì, devo dire con difficoltà, perché ho avuto dei momenti di scoramento, perché magari non riuscivo. Cioè, dopo un po' la quotidianità, soprattutto all'inizio, ho iniziato a perdere completamente il senso dei giorni, che giorno fosse. I giorni che iniziano a passare in un modo che tu dici, boh, è finita la giornata, cosa è successo, non lo so. Poi il fatto di non avere degli obiettivi così all'inizio, anche il fatto di avere alla fine bloccato tutti i lavori che ho, questa cosa mi ha dato un po' di scoramento. Però, diciamo, piano piano si trova una regolarità. Sei un po' preoccupato per quello che succederà a tutto il nostro mondo degli eventi, della musica? Guarda, sinceramente sì. So che prima o poi finirà questo blocco e si tornerà a vivere la nostra socialità, a tornare a vivere anche il nostro bel mare culturale. Però sì, sì, ma manca molto e non so quando ripartirà. Diciamo che per ora mi sto attrezzando, mi sono iscritto a un'università, a un corso di università online e ho anche trovato, in realtà ho trovato un lavoro in questi giorni come educatore. L'unico, l'unica persona che riesce a trovare il lavoro. Sì, infatti ho sempre fatto difficoltà e in questo periodo sono riuscito a trovare un lavoro firmato. Ovviamente è un lavoro molto breve come educatore in una struttura che accoglie i bambini i quali i genitori sono entrambi affetti da coronavirus e quindi ricoverati. Quindi questi bambini che resterebbero a casa da soli oppure in ospedale in dei reparti speciali. Ecco, è nato questo servizio dal comune di Milano per raccogliere questi bambini. Per adesso non abbiamo ancora iniziato, però è tutto pronto, c'è stata la formazione di noi educatori. Bellissima questa cosa, non la sapevo. Molto bello e diciamo che unisce... È molto utile alla comunità, secondo me. Sì, esatto. Unisce le mie esigenze di combattere la noia, dare una regolarità, trovare un lavoro che comunque in questo momento era importante, rendersi utile. E quindi bene così, diciamo. Cioè nel senso sei stato fortunato. E poi soprattutto ho l'autorizzazione per girare, per stare in giro. Eh, certo. Cosa da non sottovalutare. Non è male, quindi ecco sì. E invece ti faccio una domanda. Tra dieci anni, se tu ripenserei a questo momento, cos'è che vorresti ricordare? Come lo vorresti ricordare, questo periodo? Tra dieci anni. Tra dieci anni. Ho anche un oggetto, un qualcosa che riguardandolo tu dici, porca miseria, mi sembra di essere nel 2020. Per dire, io quando guarderò un Kindle avrò sempre questa cosa della quarantena, del coronavirus, credo. Ma diciamo i miei highlights di queste settimane sono, mi ricorderò, dirette streaming, perché essendo anche musicista, e diciamo, vendo nel mondo degli eventi sia come organizzatore sia come, diciamo, artista, ho fatto tantissime dirette. Un po' ci sono dei locali che si sono attrezzati per mandare avanti la programmazione, facendo delle dirette da casa. Cosa che tra l'altro inizierà anche questo venerdì per la rassegna Raster. Uh, grandissimo! Bravissimo averlo ricordato. Raster continua sulle dirette Instagram della pagina Raster, quindi mi ricorderò tonnellate di dirette Instagram, la noia di stare in casa, e poi che appunto tutta questa situazione mi ha portato, ad esempio, a iscrivermi a un corso per diventare educatore. Vabbè, quindi ti ha aperto nuove strade, diciamo. Sì, dai. Beh, speriamo, cioè nel senso bisognerà trovare qualcosa di positivo in questa situazione. Esatto, cerchiamo di tirarci fuori qualcosa. Va bene. Allora grazie mille. Grazie a te, buona quarantena. Buona quarantena, mi raccomando, quando vai in giro non vi ronzolare troppo. Esatto, con tutte le precauzioni del caso. Esatto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.